Quanti miti e leggende circolano sul Titanic e sul suo affondamento? L'incendio, la frode assicurativa, i binocoli che mancavano, le scialuppe non sufficienti... Tutti argomenti di cui abbiamo già parlato, smentito e chiarito più e più volte. Ma ce n'è probabilmente ancora uno da approfondire che gira ormai da parecchio tempo sul motivo per il quale il Titanic non è riuscito a gestire l'urto con l'iceberg. Quindi oggi rispondiamo alla domanda ma il Titanic è stato costruito con materiali scadenti? Prima di iniziare voglio dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e ringraziarvi veramente tutti perché il canale sta crescendo a dismisura e questo è veramente solo merito vostro. Il sostegno che mi state dando è veramente la scintilla che mi spinge ad andare avanti con il lavoro che sto facendo qui su YouTube. Quindi veramente grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Ma adesso torniamo al video. Questa storia sui materiali scadenti usati per la costruzione del Titanic sta prendendo parecchia attenzione negli ultimi anni. Il metallo era scadente, era pieno di impurità, era debole, eccetera eccetera. Quindi come facciamo sempre analizziamo i fatti e vediamo se c'è un briciolo di verità. Innanzitutto capiamo come venne costruito il Titanic e tutte le navi di quell'epoca prima ancora che la tecnica della saldatura cominciasse ad essere applicata alla costruzione navale poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. A quell'epoca gli scafi delle navi erano assemblati e tenuti insieme da questi elementi di fissaggio chiamati rivetti. Immaginateli come degli enormi chiodi che venivano arroventati e poi fissati al loro posto appiattendoli tra le lastre di ferro. Quando il ferro si raffredda il metallo si restringe serrando le placche di acciaio tra di loro e questo procedimento veniva applicato su ogni singola parte dello scafo per tutta l'intera lunghezza della nave. Per il Titanic vennero utilizzati circa 3 milioni di rivetti tutti completamente fissati a mano. In alcuni casi venivano utilizzate delle rivettatrici idrauliche per aiutare e velocizzare il lavoro ma potevano essere usate solamente per le parti dritte dello scafo. Immaginate lo sforzo e la fatica nel costruire una nave lunga a 269 metri alta come un palazzo di 10 piani interamente a mano e senza le tecnologie che abbiamo oggi. Questo metodo di costruzione non era applicato solo al Titanic ma a qualsiasi altra nave dell'epoca fino al 1920 quando venne varata la nave Fulagar che fu la prima nave con scafo saldato al mondo. Ma sarebbero passati ancora diversi anni prima che la tecnica della saldatura venisse applicata ai transatlantici. La rivettatura era una tecnica molto efficiente e soprattutto resistente e questo lo vedremo meglio più avanti. Ora, quello su cui voglio farvi prestare attenzione è il fatto che in quegli anni l'unico modo per attraversare gli oceani era attraverso un transatlantico. Non c'erano aerei, non c'era altro e attraversare l'oceano atlantico non è una cosa facilissima date le condizioni climatiche estreme che si possono trovare durante la navigazione. Per questo motivo i costruttori navali facevano di tutto per rendere le proprie navi altamente resistenti e forti per reggere centinaia di traversate senza incorrere a danni strutturali. E lo facevano utilizzando i migliori materiali non avrebbero mai rischiato di perdere una loro nave e con essa milioni di dollari d'incasso. Le navi venivano costruite per durare nel tempo e soprattutto cercando di fare meno manutenzione possibile e questo si faceva appunto usando i migliori materiali. La rivettatura è un metodo di costruzione talmente valido e forte che la Queen Mary una nave costruita più di vent'anni dopo il Titanic venne messa insieme con la stessa tecnica. Ma con un'unica differenza che mentre sul Titanic vennero utilizzati circa 3 milioni di rivetti per mettere insieme la Queen Mary ne occorsero circa 10 milioni. Ora che abbiamo capito come funzionava la rivettatura è arrivato il momento di parlare proprio del metallo. Perché quello che si dice è che il metallo era scadente e pieno zeppo di impurità e quindi non resse l'impatto con l'iceberg. Ma quello che le persone che affermano queste cose non tengono bene a mente è che stiamo parlando di oltre un secolo fa. E il problema è proprio questo il continuo voler fare analogie tra i materiali e le tecnologie che abbiamo oggi con quelle dei primi del Novecento. Ma questa cosa non si può fare non si può giudicare quello che veniva fatto a inizio secolo con la testa e le conoscenze che abbiamo oggi. Quando si studia la storia si deve cercare di capirla con gli occhi di chi l'ha vissuta in quell'epoca senza tutte le cose che sappiamo ora. Questa cosa viene totalmente dimenticata quando si parla di eventi storici passati. Nel 1912 il ferro utilizzato per costruire il Titanic era assolutamente il migliore che si potesse usare. Quando la nave urtò l'iceberg dobbiamo ricordare che stiamo sempre parlando di una nave di 46.000 tonnellate che viaggia a 21 nodi e si schianta contro un muro di ghiaccio di circa 75 milioni di tonnellate. Quello che c'è dette non furono le lastre di ferro ma le teste dei rivetti. Le placche si piegarono ma restarono completamente integre e questo è confermato dal danno dell'iceberg ancora visibile sul relitto. In qualsiasi tipo di incidente il metallo cede sempre sul suo punto strutturale più debole e nel caso del Titanic il punto più debole erano le giunture delle placche di ferro ottenute insieme proprio dai rivetti. Se avessimo costruito una qualsiasi nave con la tecnica della rivettatura ma con materiali moderni sarebbe successa la stessa identica cosa. Sia i rivetti che il metallo erano di ottima qualità per l'epoca. Il problema fu l'urto troppo grande era semplicemente uno stress impossibile da sostenere per lo scafo. Ma qui voglio aprire un'altra piccola anzi grandissima parentesi. Quello che erroneamente si pensa è che il danno causato dall'iceberg fu un danno enorme e spropositato causato appunto dai materiali scadenti. Ma il danno non era assolutamente grande anzi era molto molto piccolo. L'iceberg aprì sei piccole falle sotto la linea di galleggiamento per un danno totale di 4 metri quadrati. Immaginate una piccola stanza di 2 metri per 2. Ecco quella era la grandezza totale delle falle causate dall'urto con l'iceberg. Il problema non fu il danno in sé ma la sua distribuzione. Questa serie di piccole aperture era su una lunghezza di circa 90 metri che colpì quasi 6 compartimenti stagni quando sappiamo che il Titanic poteva sostenere un danno che avesse coinvolto al massimo i primi 4. Se il metallo fosse stato debole avrebbe ceduto completamente al momento dell'impatto generando un'apertura enorme rispetto a quella che possiamo vedere oggi sul relitto e probabilmente il Titanic sarebbe affondato nella metà del tempo. Ma adesso detto tutto questo mi si potrebbe dire eh ma quello che ci stai raccontando sono solo parole non c'è niente di scritto. Ma secondo voi io non ho nulla di documentato da farvi vedere? Nel 1998 Tim Feck metallurgista e professore dell'Università del Maryland collaborò con l'American Institute of Standard and Technology effettuando degli studi su alcuni campioni di ferro recuperati dal relitto. non ho la minima idea se effettivamente il suo nome si pronunci così. Questi campioni recuperati comprendevano sia i rivetti che parte delle lastre di ferro dello scafo e vennero analizzati al microscopio per capirne la struttura molecolare poi messi a bassa temperatura per simulare le condizioni dell'impatto avvenute quella notte. È uno studio di 17 pagine quindi vi riassumo solamente le conclusioni finali. Le analisi attestano che il metallo presenta sì una scarsa resistenza alle basse temperature ma anche che c'è una grossa discrepanza di composizione tra i diversi campioni. Questo significa che le oltre 2000 lastre utilizzate per la costruzione dello scafo presentano caratteristiche diverse tra di loro e quindi non si può attestare che siano tutte deboli. Inoltre dato l'orientamento della struttura molecolare del ferro è più probabile che questo abbia contribuito alla rottura a metà dello scafo e non al danno con l'iceberg. Ma il punto principale è l'ultimo dove viene scritto testuali parole. Date le conoscenze degli ingegneri navali dell'epoca al momento della costruzione è opinione dell'autore che non vennero commessi errori metallurgici nella costruzione dell'RMS Titanic. Inoltre sul loro sito Feck aggiunge anche che le analisi condotte su altri campioni recuperati mostrano una resistenza quasi paragonabile al ferro utilizzato sulle navi moderne e quindi più che adeguate alla costruzione del Titanic. Concludendo viene affermato che le prove si allontanano dal fatto che il metallo debole si sia frantumato al momento dell'impatto con l'iceberg. Piuttosto sembrerebbe che una serie di sfortunate circostanze tra la dinamica dell'incidente e il design della nave abbia portato a quello che è diventato il più famoso disastro marittimo della storia. E questi sono tutti studi facilmente consultabili proprio sul sito dell'American Institute of Standard and Technology. Il cantiere navale Arland and Wolf è stato uno dei più importanti al mondo costruendo circa 1600 navi alcune tra le più importanti della storia. E non ci dimentichiamo che la nave gemella del Titanic l'Olympic costruita con le stesse tecniche e gli stessi materiali ha avuto una carriera stupenda di quasi 25 anni. Sopravvivendo ad una collisione con un incrociatore da guerra affondò una nave faro un sottomarino tedesco durante la prima guerra mondiale e sopravvisse ad un siluro che gli restò conficcato nello scafo. E voi davvero credete che una nave costruita con materiali scadenti avrebbe potuto sopportare tutto questo? E non dimentichiamoci che quando venne demolita nel 1935 il ferro dell'Olympic insieme a quello del Mauretania venne reciclato e utilizzato per la costruzione proprio della Queen Mary che tutt'oggi è ancora galleggiante e diventato una nave museo. Quindi vedete come anche questo mito legato al Titanic non ha completamente senso. Ora vi metto davanti a un piccolo quesito dato che purtroppo girano anche molti documentari che parlano proprio del metallo scadente. Secondo voi attira di più l'attenzione delle persone un documentario nel quale si dice che il Titanic affondò perché era stato costruito con dei materiali completamente inappropriati oppure un semplicissimo documentario dove si racconta la storia del Titanic e si attribuisce la causa del disastro solamente a una serie di circostanze sfortunate. Fatevi questa domanda e sicuramente troverete la risposta. Ripeto sarebbe impensabile paragonare i materiali di inizio novecento con quelli che abbiamo oggi ma l'errore che purtroppo si fa sempre è quello di pensare al 1912 con la testa del 2024. Quindi ragazzi adesso quando qualcuno vi dirà che il Titanic era costruito male saprete cosa rispondergli oppure fateli vedere direttamente questo video così fate prima. Come sempre io vi ringrazio e vi invito a lasciare un like e se non l'avete fatto iscrivervi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video sempre qui su Curiosi Tanik.